Ciao ragazzi benvenuti in un nuovo video. Oggi lanciamo una nuova serie di video dove molti di voi so troveranno interessante, potrai ascoltare senza dover per forza guardare lo schermo. Una comodità assoluta. Un team di ricerca della Penn State University ha messo a punto un sistema per ricaricare le auto elettriche in tempi brevissimi, 10 minuti, senza deteriorare le batterie. La ricerca sulle batterie prosegue sia a livello industriale che accademico nelle migliori università del mondo e nei prossimi anni vedremo enormi progressi. Tesla promette una durata delle batterie di un milione di miglia, 1 milione e 600 mila chilometri, nelle modelli Y in produzione nella seconda metà del 2020. In questo caso si è scoperto che mantenendo una certa temperatura della batteria durante la ricarica si impedisce il processo di degrado causato dal deposito di particelle di ioni di litio sull'anodo di grafite. A spiegare questa nuova tecnologia è Xiao Yang Wang, professore di ingegneria chimica e di scienza e ingegneria dei materiali e direttore dell'Electrochemical Engine Center presso l'università. Abbiamo dimostrato che possiamo caricare un veicolo elettrico in 10 minuti per fargli percorrere una distanza compresa tra 200 e 300 miglia, 320-480 chilometri. E possiamo farlo mantenendo 2500 cicli di ricarica, cioè l'equivalente di mezzo milione di miglia, 800 mila chilometri, di viaggio. Il team della Penn State University ha però scoperto che se le batterie potessero riscaldarsi a una temperatura di 60 gradi Celsius per solamente 10 minuti e quindi raffreddarsi rapidamente fino a tornare a temperatura ambiente, Le placche di litio sull'anodo non si formerebbero, e non si verificherebbe nemmeno il degrado dovuto all'eccessivo calore della batteria. Attualmente però, spiega Wang, portare le batterie fino a una temperatura di 60 grado è considerato pericoloso per le batterie stesse e per le superfici con il quale queste sono a contatto. Riuscendo però a riscaldare e a raffreddare velocemente le batterie quando sono sottoposte a una ricarica rapida di 10 minuti, il problema sarebbe risolto. Considerando che già tutte le batterie agli ioni di litio montate sulle vetture sono dotate di sistemi di raffreddamento, il problema è fargli raggiungere una temperatura di 60 gradi in tempi rapidi. Il team ha quindi proposto una soluzione, batterie autoriscaldanti, che utilizzano una sottile lamina di nickel con un'estremità collegata al terminale negativo e l'altra che si estende all'esterno della cella, in modo da creare un terzo terminale. Un sensore di temperatura collegato a un interruttore fa sì che gli elettroni scorrano attraverso la lamina di nickel, per completare il circuito. Questo sistema riscalda rapidamente la lamina di nickel e quindi la batteria. Una soluzione quindi non eccessivamente impegnativa dal punto di vista tecnologico e industriale, che potrebbe perciò essere rapidamente adottata in produzione nelle vetture elettriche. E che ridurrebbe di molto la range anxiety. Ricordo che le migliori batterie sul mercato, Tesla, Samsung, LG, già ora garantiscono percorrenze di centinaia di migliaia di chilometri senza apprezzabile degrado. Il fatto di abbinare un metodo per consentire una carica ultra rapida senza alterare la chimica della batteria porterà a livelli di rapida maturazione la diffusione dei veicoli elettrici. Iscriviti canale e metti un mi piace se questa tipologia di video ti piace. Fammi sapere anche cosa ne pensi delle batterie a fast charger. Iscriviti canale e metti un po' di più.